buongiorno benvenuti al pala barzacchi di viareggio prima giornata delle finali nazionali under 17 qui appunto a viareggio si incontrano per la prima partita nel girone a team service car monza e hockey roller bassano andiamo subito a leggere le formazioni agli ordini dei signori trevisan e lucifero le squadre scendono in campo con le seguenti formazioni hockey roller monza numero 1 borgonovo numero 3 peruzzi numero 4 gariboldi numero 5 vergani numero 6 negri numero 7 di rita numero 8 cianna mea numero 9 olivieri e numero 10 galdini allenatore il signor olivieri risponde il roller bassano allenato da leonardo de gerone con il numero 1 bonotto il numero 2 fiorese il numero 3 campagnolo il numero 4 zambon il numero 5 biasini il numero 6 visentin il numero 7 reniero numero 8 grossele numero 9 cenci e numero 9 capitano vallortigara una formula questa delle finali nazionali under 17 che prevede due gironi da cinque squadre con le prime tre che si qualificano per la fase finale a giocarsi lo scudetto mentre le quarte e le quinte di ogni girone andranno poi a comporre la griglia delle semifinali per conquistare la coppa firs come detto partita del girone a che vede in campo il roller bassano arrivato qui a viareggio da terza classificata nella zona 2 con 49 punti e l'hockey roller club monza primo classificato della zona 1 anche anche loro con 42 punti frutto di 14 vittorie una sconfitta nel nel girone fatto di 105 gol fatti e 38 subiti squadre a centropista adesso per le presentazioni di rito e ci ci risentiamo per l'inizio della partita e sono una squadra e una squadra eccoci di nuovo dal pallabarzacchi ripetiamo prima partita del girone a delle finali nazionali giovanili under 17 in campo roller bassano in divisa bianca con freggi rossi mentre il team service car monza risponde con un completo completamente rosso girone a ripetiamo per la prima partita composto oltre da queste due squadre dalla sd viare giochi dalla rotellistica scandianese e dall'amatori lodi giornata intensa oggi che prevede appunto tutte le squadre che si sfideranno a seguire quindi ogni più o meno un'ora e mezzo una partita che seguiremo completamente in diretta squadre squadre in pista i quintetti pronti a partire il signor trevisan da il via alla partita pallina prima pallina per il roller bassano che cerca subito un affondo che non va a buon fine riparte adesso il monza con il numero 9 olivieri da questi al numero 4 gariboldi adesso ancora il monza che cerca una manovra sulla sinistra il numero 6 negri di nuovo per olivieri da questi al numero 4 gariboldi pienesti ancora a gariboldi prima conclusione parata senza problemi da valortigara monza che continua con il possesso palla ricomincia un'azione al limite dei 45 secondi abbiamo un contrasto sulla balaustra di nuovo olivieri che in possesso di palla a centro campo si va a infilare riesce a saltare due uomini conclude a lato con Vallortigara che sembrava essere sulla traiettoria l'arbitro Trevisan adesso ferma un attimo il gioco per un problema tecnico di carattere tecnico al portiere che ha perso la fascetta del capitano appunto il numero 10 Vallortigara capitano dei Veneti ne approfittiamo per i quintetti in pista il Monza con il numero 1 Borgonovo il numero 6 Negri il numero 9 Olivieri il numero 4 Gariboldi e il numero 5 Vergani risponde il Roller Bassano appunto con il numero 10 capitano e portiere Vallortigara poi abbiamo il numero 9 Cenci il numero 5 Biasini il numero 7 Reniero e il numero 6 Visentin pallina in possesso del Roller Bassano che manovra nella zona centrale del centrocampo con una palla adesso persa adesso Vallortigara riesce ad allontanare però sulle stecche dei giocatori del Monza che recuperano possesso con Negri che scarica per Gariboldi Olivieri ma c'è un fallo in attacco fischiato dal signor Trevisan autore il numero 5 Vergani quindi si ripartirà con una punizione per il Roller Bassano primo minuto e mezzo passato senza grosse emozioni con le squadre adesso in una fase di studio chiaramente c'è una conclusione adesso da centrocampo del Roller Bassano para senza problemi Borgo Novo anche sulla seguente respinta il Monza riprende la pallina adesso cerca un'azione con il numero 9 Olivieri prova ad entrare in aria invece passa dietro la porta difesa dalla Vallortigara scarica la palla per un nuovo giro di passaggi nella zona centrale del centrocampo buono slalom di Negri fermato adesso con un fallo il primo fallo di squadra anche per il Roller Bassano situazione falli appunto 1 a 1 sono passati due minuti mentre il punteggio è ancora fermo sullo 0 a 0 ripetiamo quindi una prima fase di studio squadre che arrivano chiaramente con un po' di emozione a questo grande appuntamento è normale adesso che ci sia un piccolo momento di studio una conclusione di Olivieri che termina sull'esterno della rete recupera palla al Roller Bassano che prova a ripartire adesso nella propria metà campo trascorrono i 10 secondi senza che la squadra veneta sia riuscita a superare la metà campo quindi la punizione adesso sarà di nuovo per il Monza che recupera Monza in queste prime fasi più padrone del campo adesso vediamo c'è il numero 6 negri che prova un affondo sulla sinistra di nuovo dietro la palla ad Olivieri che prova ancora a sua volta a entrare in aria c'è un bello slalom con Vallortigara che ferma l'entrata del giocatore monzese e può ripartire visentino palla persa per il Roller Bassano c'è un'occasione potenziale molto buona per il Monza ma il contropiede si perde nel nulla 3 contro 2 dall'altra parte per il Roller Bassano che però non riesce a tirare il numero 9 cenci adesso prova a mantenere il possesso della pallina partita che piano piano prova a vivacizzarsi anche se c'è una conclusione del numero 6 negri che sortisce poco effetto Roller Bassano che riparte adesso nella propria metà campo cerca di imbastire una trama adesso c'è il numero attenzione il numero 9 cenci lasciato solo e c'è una grandissima parata del portiere Borgonovo che chiude la conclusione del numero 9 cenci sul primo palo dall'altra parte Olivieri sulla sua consueta fascia di sinistra prova ad entrare e subisce un fallo sempre del numero 9 cenci arriva anche il primo time out chiamato dal Monza quindi come dicevamo una fase adesso di partita più interessante rispetto ai primi minuti dove le squadre si sono studiate e l'allenatore Olivieri però ha visto qualcosa evidentemente da correggere nella sua squadra quindi chiamato il primo time out dicevamo appunto una giornata molto intensa oggi qui al Palabarzacchi di Viareggio perché avremo partite praticamente ogni ora e mezzo partiamo appunto stamani con la partita attuale Monza-Roller-Bassano poi avremo sempre per il girone A alle 10.30 AS di Viareggio contro Rotellistica Scandianese alle 12 per il girone B Follonica contro Breganze a seguire Correggio contro Eboli di nuovo nel girone A alle 15 Lodi-Monza derby Lombardo alle 16.30 Roller-Bassano contro Rotellistica Scandianese alle 18 girone B Valdagno-Follonica alle 19.30 sempre girone B Breganze-Eboli e per finire avremo alle alle 22 Lodi-Viareggio sempre per il girone A pronti a riprendere il gioco la punizione sarà dall'angolo basso dell'area di rigore del Roller-Bassano a favore del Monza sulla pallina numero 5 Vergani Monza che ricomincia l'azione con una manovra a centropista ancora abbiamo il tentativo di Negri serve Olivieri ancora giocata a due con Negri però che prova una conclusione da lontana bloccata dalla difesa del Roller-Bassano che prova adesso a ripartire ma perde subito palla dovuto alla pressione molto alta in questi primi minuti del Monza che sta tenendo la pista in maniera efficiente nonostante alcune amnesie difensive ancora a centrocampo adesso Monza che prova a liberare una conclusione per una deviazione interna ma recupera adesso il Roller-Bassano ancora con Cenci che prova a portare in avanti la palla viene chiuso dalla difesa Lombarda quindi deve ricominciare da capo recupera la palla al Monza che prova a ripartire Olivieri però si va a infilare in un imbuto adesso c'è un contropiede importante per il Monza e ancora la bella parata di Borgonovo al secondo intervento decisivo in questi primi cinque minuti e giustamente il portiere richiama una maggiore attenzione i suoi in fase difensiva riparte adesso il Roller-Bassano dopo una conclusione dalla lunga distanza del Monza che non ha sortito effetto pallina adesso dietro la porta difesa da Borgonovo ancora il Roller-Bassano con il numero 6 Visentin che prova un affondo sulla sinistra cerca di mettere in mezzo finisce giù per l'arbitro Trevisan non ci sono gli estremi per il fallo anzi è il giocatore veneto ad aver toccato la pallina col corpo a terra quindi di nuovo punizione per il Monza che ha già battuto e in questo momento si trova ancora a centrocampo per cercare di imbastire una manovra e trovare impreparata la difesa del Roller-Bassano un Roller-Bassano che difende molto bene molto chiuso in questi primi momenti senza senza perdere il proprio uomo ancora pallina sulle stecche dei giocatori Lombardi con Olivieri che prova adesso a puntare da centrocampo perde la palla per un contropiede di nuovo del Bassano la conclusione del numero 7 Reniero ben parata da Borgonovo pallina che termina oltre le recinzioni di protezione della pista e quindi si riprenderà con una punizione dall'angolo basso di nuovo per il Roller-Bassano primo cambio per la formazione veneta è uscito il numero 5 Biazzin è entrato il numero 2 Fiorese pallina ancora adesso per i veneti che dietro porta cercano lo scarico a centrocampo il numero 6 Visentin serve Reniero prova a entrare in area si chiude la difesa monzese è già ripartito dall'altra parte Olivieri che prova con un'azione personale a saltare tutta la difesa veneta conclude addirittura girando dietro porta sicura la parata di Vallortigara e può ripartire il roller Bassano con una possibilità di 3 contro 2 la pallina in mezzo viene ancora chiusa da Olivieri che un attimo fa era in situazione di attacco adesso recupera velocemente e si mette di nuovo a gestire la situazione di nuovo appunto il Monza che continua a ragionare a centrocampo cerca una manovra più studiata poi ancora Olivieri parte in slalom però riesce a saltare 1-2 ma il terzo uomo lo chiude quindi ancora di nuovo il roller Bassano che recupera palla adesso partita sicuramente più vivace rispetto all'inizio quando siamo arrivati quasi alla metà del primo tempo ancora 0-0 il punteggio fra roller Bassano e HRC Monza c'è una conclusione adesso del numero 7 Reniero colpisce il palo forse Borgonovo coperto non ha visto partire il tiro poi l'arbitro Trevisan ravvisa un'infrazione un fallo di pattino di un attaccante Veneto e quindi il Monza può ripartire adesso nella propria metà campo con la solita rete di passaggi sulla linea di centro campo fino a trovare lo scarico a Olivieri che prova di nuovo a entrare in mezzo alla difesa Bassanese ma ancora una volta viene chiuso dall'altra parte Fiorese una conclusione angolata con la punta del piede Borgonovo riesce a deviare un tiro che probabilmente sarebbe comunque terminato a lato Monza adesso che prova a ragionare ancora una volta a centro campo solita pallina per Olivieri che questa volta scarica per un compagno di squadra prova adesso a entrare a mettere in mezzo la pallina viene fermata l'azione riparte dall'altra parte il roller Bassano con Reniero Reniero prova a entrare in aria viene contrastato scarica fuori per Cenci Cenci apre il gioco per Fiorese che viene contrastato cade a terra per l'arbitro non c'è fallo e il numero 6 Visentin può continuare la manovra di nuovo Cenci Reniero prova a far correre Cenci in mezzo all'area subisce il fallo circa 2 o 3 metri fuori dall'area di rigore e Leonardo De Gerone chiama il suo primo time out per il roller Bassano 0 a 0 il punteggio siamo arrivati all'ottavo minuto e 30 secondi di gioco in questa prima parte due per parte i falli di squadra la partita che adesso è sicuramente più vivace rispetto alle fasi iniziali i due allenatori appunto cercano di trovare le contromosse alle difese che sono soprattutto quella del roller Bassano in questo momento molto efficiente riesce a chiudere bene le entrate dei giocatori monzesi mentre dall'altra parte ci sono state un paio di amnesie difensive che hanno portato i giocatori veneti a delle conclusioni potenzialmente pericolose per il momento ben parate da Borgonovo da segnalare anche appunto un palo del roller Bassano con una conclusione dalla distanza sul quale forse il portiere leggermente coperto non ha visto partire il tiro suona la sirena quindi squadre pronte adesso a riprendere il gioco qui al palla Barzacchi di Viareggio ripetiamo prima giornata delle finali nazionali under 17 siamo nel girone A si incontrano roller Bassano in completo bianco pantaloncini rossi e OHRC in Monza completo completamente rosso riprende il gioco con una punizione pericolosa dal limite dell'area per il Bassano sulla pallina il numero 900 che toccherà per Regnero prova a andare alla conclusione la pallina si infrange sull'uomo davanti al portiere e quindi il Monza può ripartire con la manovra di Negri che cerca di superare la metà campo da questi a Olivieri serve Vergani ancora Olivieri ancora Monza che prova a cercare un varco nella difesa attenta del roller Bassano a centro campo di nuovo Olivieri cerca di servire il taglio di Gariboldi la pallina però è troppo alta e viene recuperata soltanto alla sponda quindi in una zona non pericolosa della pista adesso c'è un'apertura sbagliata del numero 4 Gariboldi prova Fiorese a ripartire in contropiede lo ferma Olivieri occasione adesso per il Monza con la conclusione bella parata di Vallortigara ancora Olivieri ancora grande parata di Vallortigara che riesce con una bellissima spaccata a chiudere il tentativo di Olivieri appunto la respinta sul precedente tiro Monza che prova ancora dalla distanza una conclusione però che arriva comoda sulla stecca di Reniero prova a ripartire lo stesso numero 7 dietro la porta difesa da Borgonovo adesso a centro campo per Fiorese Fiorese che apre il gioco sulla fascia il controllo è sbagliato da parte di Cenci e può ripartire con la sua manovra il Monza ancora Olivieri a centro campo dalle quali stecca passano la maggior parte delle palline in questi primi dieci minuti di gioco del Monza ancora lui che prende palla nella propria metà campo parte sulla fascia sinistra si accentra conclude in maniera pericolosa la palla che sfila al lato sinistro della porta di Vallortigara adesso riparte il roller Bassano nella zona di centro campo adesso con Cenci Cenci serve Regniero Regniero si accentra lascia partire un tiro la palla rimane lì riesce Olivieri ad allontanare dopo la respinta di Borgonovo il pericolo un'occasione potenziale molto pericolosa per il roller Bassano perché Fiorese si trovava nella zona delle operazioni e avrebbe potuto comodamente mettere la pallina in porta adesso c'è ancora Olivieri che trova un barco nella difesa ma c'è un grande intervento difensivo di Cenci che riparte riparte prova a cercare Fiorese la difesa monzese si chiude quindi c'è lo stesso Cenci che serve adesso il il nuovo entrato Zambon Regniero adesso una conclusione di rovescio bella parata sul primo palo di Borgonovo in questo caso Zambon lasciato un po' troppo libero dalla difesa monzese una conclusione che viene deviata col guantone destro da Borgonovo la pallina termina sulle tribune quindi si andrà a una punizione dall'angolo basso per il roller Bassano sono 12 minuti passati nella prima frazione di gioco ancora 0 a 0 due falli per squadra partita molto divertente in questo momento con occasioni da tutte e due le parti ancora Reniero che prova ad accentrarsi cerca di di trovare un barco pallina messa nel mezzo allontanata dalla difesa monzese che riparte adesso con il numero 4 Gariboldi prova ad andarsene sulla destra lo ferma Cenci ma la pallina torna di nuovo in suo possesso ancora Gariboldi che prova ad accentrarsi perde il controllo da questa da questa azione ne esce ancora in possesso di palla il Monza per alcuni secondi poi di nuovo il roller Bassano ancora con Reniero il più pericoloso di suo in questo momento conclude in maniera debole centrale nessun problema per Borgonovo è già ripartito il Monza adesso al centrocampo con l'azione di Negri conclude da lontano c'è una deviazione pallina che si impenna la controlla poi Fiorese serve Reniero Reniero perde il controllo della pallina poi la recupera in un secondo momento ancora Fiorese prova una bella azione viene messo giù dal numero 7 di Rita appena entrato e c'è il secondo time out di questa prima frazione di gioco chiamato ancora in questo caso dal roller dall'hockey roller Monza squadre appunto che approfittano anche per oltre per i consigli per dissetarsi in questi giorni Viareggio stata investita da un caldo abbastanza abbastanza importante non direi fuori stagione ma comunque rispetto alle temperature leggere della settimana scorsa adesso soprattutto nelle partite pomeridiane chiaramente questo sarà un fattore da tenere in considerazione 0 a 0 quindi nella prima partita di queste finali nazionali giovanili categorie under 17 qua da Viareggio in campo appunto roller hockey roller Monza e roller Bassano nella prima partita di questo girone A che ricordiamo comprende oltre alle due squadre AS di Viareggio hockey rotellistica scandianese e amatori Lodi di nuovo pronte le squadre a riprendere il gioco come abbiamo detto si riprenderà con una punizione in zona interessante circa qualche circa due metri fuori dall'area di rigore del Monza in favore del Bassano per un fallo appunto subito dal numero due Fiorese sulla pallina abbiamo Cenci e Reniero cercheranno una combinazione come accaduto in precedenza Reniero si allarga sulla sua destra conclude però con un tiro accompagnato controllato facilmente da Borgonovo riparte il Monza per la sua trama offensiva con il numero nove Olivieri serve il numero sei negri poi da questi riparte sulla sua destra cerca il taglio di Gariboldi fermato dalla difesa Bassanese dirita lotta e recupera una bella pallina sulla tre quarti ancora Olivieri nel mezzo sempre per dirita chiude Vallortigara riparte adesso Reniero però la sua azione viene chiusa dalla difesa monzese che è già dall'altra parte pallina in area per Olivieri che conclude ma Vallortigara non si lascia sorprendere sul primo palo la conclusione adesso con un tiro di rovescio di buona potenza da parte Zambon la mira però è troppo alta la pallina che termina nella rete di protezione ripartiamo quindi con una punizione per il Monza cade Fiorese nel tentativo di recuperare una pallina ci riesce soltanto adesso nella sua metà campo di nuovo messo a terra dal numero sei negri la pallina dall'altra parte Cenci prova un'imbucata per il numero quattro Zambon adesso un nuovo contrasto e un nuovo fallo fischiato dall'arbitro Trevisan del numero sei negri può ripartire il Bassano conclusione da centropista di Reniero chiude Borgonovo e il Monza può recuperare palla vediamo Negri che supera la linea di centrocampo serve Olivieri da questi solito scambio con Gariboldi prende velocità sulla fascia sinistra Olivieri scarica per dirita che ha qualche problema nel controllare la pallina e la difesa del Bassano può ripartire in questo momento sempre con Reniero prova a mettere una pallina nel mezzo chiude la difesa monzese sul tentativo di imbucata a favore di Fiorese è lo stesso Fiorese adesso che lotta con Olivieri in balaustra per il possesso della pallina Olivieri cerca di uscire dal raddoppio di marcatura ci riesce in maniera un po' fortunosa e ancora il Monza che può manovrare quindi sulla sulla zona di centropista sempre il numero nove capitano della squadra lombarda possesso di pallina da questi al numero sei negri di nuovo Olivieri che cerca di servire Gariboldi che conclude in maniera debole nessun problema per Vallortigara dall'altra parte Regnero pallina nel mezzo e c'è la traversa colpita dal numero cinque Biasini che si è trovato a tu per tu con Borgonovo ha provato a scavalcarlo con un tiro accompagnato di rovescio la pallina ha colpito la parte bassa della traversa è ricaduta alle spalle del portiere oltre la linea di porta di nuovo il Monza con la solita manovra ragionata al centrocampo c'è una bella percussione adesso del numero quattro Gariboldi che entra in area conclude di nuovo l'intervento di Vallortigara con l'aiuto della traversa riescono a sventare la minaccia dall'altra parte ancora Biasini Biasini prova entrare in area conclude sul primo palo adesso partita molto molto divertente ci sono conclusioni da una parte e dall'altra quando siamo arrivati a quattro minuti dalla fine del primo tempo le squadre ancora sullo 0 a 0 riparte adesso il roller bassano Reniero cerca Zambon ma il passaggio di ritorno del numero 4 è impreciso quindi la pallina si perde nell'angolo poi c'è un fallo una spinta del numero 9 Olivieri ai danni del numero 7 bassanese Reniero quindi punizione dall'angolo basso continua adesso la manovra del roller bassano che riparte nella propria metà campo adesso con il numero 5 Biasini che però non riesce a superare nei 5 secondi canonici la metà pista quindi la palla che ritorna al Monza un passaggio errato del numero 4 Gariboldi permette al numero 2 Fiorese del roller bassano di poter controllare la pallina ancora roller bassano che prova a imbastire una manovra sulla fascia destra con Reniero cerca un compagno nel mezzo la pallina viene chiusa dalla difesa monzese che può ripartire adesso con un'azione isolata del numero 7 di Rita la difesa si chiude su di lui quindi preferisce scaricare di nuovo a centro pista adesso Olivieri che prova l'ennesima percussione fermata ancora dal roller bassano che riparte dall'altra parte con una pregevole l'azione di Fiorese che si presenta quasi a tu per tu con Borgonovo conclude di rovescio ma il portiere fa buona guardia roller bassano di nuovo in possesso di pallina adesso con il numero 6 Negri che prova a concludere da lontano chiude Reniero ma è Gariboldi che recupera di nuovo la pallina serve Olivieri che prova ad andarsene via sulla fascia sinistra entra in area ma il raddoppio di Biasini è vincente lo stesso Biasini se ne va entra in area prova a concludere la pallina però esce debole dalla stecca nessun problema per Borgonovo di nuovo adesso il Monza che prova ad entrare in area con un bel alza e schiaccia del numero 4 Gariboldi ferma il roller bassano Zambon adesso prova a servire Biasini cerca un attimo di ragionare dopo una fase molto concitata di partita il roller bassano prova la conclusione da lontano c'è una deviazione la pallina termina sull'esterno della rete e Borgonovo poi commette un fallo tecnico andando a toccare la sfera dietro la porta cosa non permessa dal regolamento per un portiere ancora roller bassano in possesso di pallina sempre con Zambon cerca un varco da questi alla conclusione da lontano di Biasini che poteva diventare pericolosa in quanto due uomini del roller bassano presidiavano all'interno dell'area di rigore pallina che però non riesce a raggiungere la porta e qui il Monza ha buon gioco nel ripartire adesso per la solita manovra ragionata a centrocampo con tre giocatori che si scambiano la palla fino ad arrivare alla discesa sulla sinistra di Olivieri che si avvicina all'area di rigore non trova spazio scarica di nuovo a centrocampo per Negri Negri va alla conclusione che impatta sul corpo di Zambon che riparte già velocemente prova a intrarinare il servizio viene chiuso da Negri la pallina che rimane però nella zona dell'area di rigore ancora Zambon in possesso il Monza però riesce a recuperare possibile due contro uno dall'altra parte Negri però si allarga troppo perde il momento propizio per servire il compagno centropista e poi commette anche un fallo riparte subito il roller Bassano Reniero sulla sinistra mette in mezzo una pallina chiude Borgonovo e riparte dall'altra parte Gariboldi che prova a puntare Fiorese cerca una conclusione che diventa buona diventa un buon assist per il numero 6 Negri che davanti a Vallortigara però mette alto alla sua destra ultimo minuto di questo primo tempo della prima partita del girone A delle finali nazionali giovanili qui dal Palla Barzacchi di Viareggio ancora 0 a 0 fra HRC Monza e Roller Bassano c'è una conclusione ancora del Monza parata senza problemi dal portiere Roller Bassano Vallortigara adesso c'è un'altra occasione molto importante per Biasini che si presenta tu per tu con Borgonovo colpisce un clamoroso palo alla destra del portiere ultimi 20 secondi con il Roller Bassano in possesso di palla però adesso Olivieri intercetta una palla pericolosa a centrocampo prova ad allargarsi sulla sinistra conclude in maniera debole e l'ultimo possesso ancora combattuto dalle due squadre finisce sulle stecche del Roller Bassano 7 secondi alla fine pallina a centropista prova Negri un ultimo a fondo cerca di mettere in mezzo per due volte la palla rimane vicino alla stecca di Olivieri ma la difesa si chiude e con questa azione termina anche il primo tempo primo tempo appunto che si chiude sul sullo 0 a 0 6 già 6 falli di squadra per l'HRC Monza contro i due del Roller Bassano squadre appunto negli spogliatoi ci sentiamo fra qualche minuto per la seconda frazione di gioco grazie a tutti 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 di gioco, perde di nuovo la palla, l'arbitro Trevisan ferma il gioco appunto per un problema alla sfera di gioco, probabilmente da sostituire, vediamo un attimo cosa succede, no, sembra che si possa ripartire con una punizione all'angolo alto dell'area di rigore in favore del roller Bassano sulla pallina Visentine-Reniero che conclude Visentine sulla barriera, di nuovo pallina nelle stecche del roller Bassano che pochi istanti fa ha avuto una grandissima doppia occasione con una conclusione da lontano, deviata, terminata sul pallo, l'ha respinta ancora sulle stecche dei giocatori veneti e il nuovo palo colpito dal numero novecenci. Roller Bassano che adesso perde il possesso di pallina nella propria metà campo, il Monza prova a imbastire una trama con il numero nove Olivieri che serve il numero quattro Gariboldi che conclude la buona chiusura del portiere Vallortigara. Cenci dall'altra parte prova un tiro deviato dai difensori del Monza che possono ripartire adesso sulla fascia ma ancora Visentine a contrasto riesce a recuperare la palla il roller Bassano con Reniero sulla pressione di Olivieri cerca di superare la metà campo. Olivieri che non lo molla e commette il settimo fallo di squadra per l'HRC in Monza prova a battere subito Olivieri e Reniero ma l'arbitro Trevisan fa rettificare la posizione della battuta. Roller Bassano nella zona centrale della pista con Cenci che cerca Zambon. Zambon ha il problema di girarsi scarica dietro per Reniero che va alla conclusione da centro pista la deviazione di Olivieri. Pallina ancora a contrasto riesce il Monza a recuperarla. Olivieri già dall'altra parte prova una conclusione. Reniero si oppone col pattino la palla finisce nell'angolo raddoppio di marcatura che porta i frutti sperati per il roller Bassano riesce a ripartire adesso nella zona centrale. Ancora Reniero serve Cenci che davanti al portiere Borgonovo si incarta poi dall'altra parte una bella parata di Vallortigara in tuffo su una conclusione centrale dei giocatori del Monza. Visentina adesso per il roller Bassano serve Reniero. Reniero sulla fascia destra cerca uno spazio ancora a centrocampo per Visentina. Guarda in mezzo ma nessun compagno pronto a ricevere il passaggio. Cenci prova adesso con un passaggio sempre in fascia destra per Reniero che perde malamente il controllo della pallina. Riparte il Monza con Olivieri sulla destra prova a guardare verso la porta ma la difesa del roller Bassano si chiude prontamente e quindi il Monza riparte con un'azione manovrata a centro pista. Il numero 4 Gariboldi serve Olivieri che parte in percussione salta due uomini conclude bella parata in tuffo di Vallortigara che poi allontana dall'altra parte Zambon viene contrastato perde la pallina ed è di nuovo il Monza a ripartire nella propria metà campo cercando adesso di controllare di nuovo il ritmo della partita dopo alcune pericoli corsi. Lo fa con il numero 6 Negri che serve Gariboldi. Solito giro palla a centro pista della formazione Lombarda. La conclusione più un passaggio forse che un tiro di Negri dà il via al contropiede del roller Bassano con Cenci che però a contrasto alla balaustra perde il possesso della pallina a vantaggio del numero 4 Gariboldi. Stesso Gariboldi porta la pallina nella metà pista del roller Bassano. Serve Olivieri. Una bella conclusione. Il palo stavolta salva il roller Bassano. Con la conclusione di Olivieri che si stampa sul palo sinistro della porta difesa da Vallortigara. Dall'altra parte il roller Bassano. Una percussione di Reniero che però perde la pallina sul più bello. È di nuovo Gariboldi a conquistarla. Serve Olivieri. Supera la linea di centro campo. Serve il numero 6 Negri. Da questi ancora Gariboldi. Il Monza abbassa il ritmo adesso della manovra. C'è una bella percussione di Negri che conclude. Vallortigara devia con il caschetto. Una conclusione di rovescio accompagnata insidiosa da parte appunto di Negri. Ancora lo stesso Negri che cerca di servire all'indietro un compagno. È Reniero a recuperare la palla. Serve Visentin. La bella parata adesso di Borgonovo. Portieri protagonisti in questo inizio di secondo tempo. Sono passati 5 minuti. Punteggio ancora sullo 0-0. Dall'altra parte ancora la conclusione del Monza che però non porta frutti sperati. Ed è il roller Bassano che può provare a ripartire. Reniero adesso cerca un tiro passaggio. una soluzione rivedibile con il Monza che ha buon gioco in fase difensiva e può ripartire adesso con il numero 4 Gariboldi che già supera la linea di centropista. Ancora Negri a centropista. Serve Olivieri capitano della squadra Brianzola che cerca una conclusione per una deviazione di Vergani nel centro dell'area di rigore. Lo stesso Vergani ancora per Olivieri. Olivieri che entra in area e va a realizzare con una mano con un tiro accompagnato a una mano un gol di pregevole fattura sul quale Vallortigana non ha potuto niente. Quindi quando sono passati circa 6 minuti dall'inizio del secondo tempo è l'HRC Monza a passare in vantaggio. 1-0 quindi ripetiamo il gol segnato dal numero 9 Olivieri. Lo stesso HRC Monza chiama un time out per far respirare i propri giocatori. Temperatura appunto che qui a Viareggio sta salendo col passare dei minuti quindi necessaria sicuramente una pausa per i giovani giocatori un sorso d'acqua sicuramente per rinfrescarsi le idee. Ripetiamo quindi il punteggio è passato in vantaggio adesso l'HRC Monza. 1-0 quando mancano 14 minuti e 11 secondi alla fine di questa prima partita del finale nazionale giovanili under 17 qui dal Pallabarzacchi di Viareggio. Girone A HRC Monza contro Roller Bassano. Ripetiamo Girone A che comprende anche Viareggio, Rotellistica Scandianese e Amatori Lodi mentre invece nel Girone B che prenderà il via alle ore 12 con la partita fra Follonica e Breganze abbiamo appunto le due compagini appena citate il Correggio, l'Eboli e l'Hockey Club Valdagno. Situazione dei falli di squadra che vede l'HRC Monza nettamente penalizzato con 7 richiami mentre soltanto due i falli commessi in questa prima partita dal Roller Bassano. Si riparte adesso con Visentine che cerca una conclusione dalla distanza Gariboldi a respingere, lo stesso Gariboldi serve Negri nella zona centrale di centro campo Reniero recupera, serve adesso Visentine che però ha il problema di girarsi scusate era il numero 5 Biasini, adesso Visentine che ha il problema di girarsi di nuovo Biasini allarga sulla sua sinistra per Reniero che prova a prendere in mano la squadra come sta facendo da inizio partita con alcune percussioni interessanti conclusioni che però non hanno trovato il fondo della rete difesa da un ottimo Borgonovo. Ancora Biasini adesso prende velocità sulla fascia sinistra cerca di accentrarsi, mette una pallina al centro ma il Monza fa buona guardia e riparte adesso con Negri Negri chiuso dalla difesa, trova un bello scarico per Gariboldi che conclude, Vallortigara fa buona guardia sulla sua destra dall'altra parte Biasini prova a entrare in aria viene chiuso adesso dal numero 9 Olivieri pallina a contrasto alla balaustra il Monza ne esce vincitore e riesce a ripartire adesso con il numero 6 Negri da questi ancora Gariboldi di nuovo Olivieri nella zona centrale della pista del Palabarzacchi di Viareggio Negri prova la percussione sulla sinistra si chiude bene la difesa del roller Bassano Monza ricomincia sempre dal suo capitano Olivieri ancora una discesa sulla sinistra e nuovo scarico a centropista per Negri Negri cerca di portare la palla oltre la metà pista la perde di nuovo Reniero che prova a servire in mezzo un compagno un rimpallo lo favorisce ma la chiusura in seconda battuta efficace di Olivieri permette al Monza ancora di ripartire sono passati 8 minuti dall'inizio del secondo tempo sempre Hockey Roller Club Monza in vantaggio 1-0 sul roller Bassano Negri prova a servire adesso una pallina nel mezzo per dirita viene fermato dall'azione del roller Bassano Reniero cerca Cenci in mezzo all'area si chiude il Monza che può ripartire conclusione potente di Olivieri dalla destra la pallina che rimane lì ancora una bella parata sul tentativo centrale di Negri servito da Olivieri da dietro porta e adesso è Biasini che spinge la transizione in avanti per il roller Bassano forse un fallo subito dal numero 5 Veneto la conclusione da lontano per una deviazione di Reniero la pallina però che si impenna l'arbitro Trevisan decide per una punizione a favore del Monza e va a richiamare adesso l'allenatore del roller Bassano Leonardo De Gerone riparte il Monza dalla propria area di rigore con Olivieri adesso a centropista cerca un compagno lo trova in Negri ancora Monza che gestisce la pallina senza troppo affanno nella zona centrale roller Bassano che si limita a controllare le azioni offensive del Monza senza andare in una pressione eccessiva c'è una pallina messa nel mezzo di Rita però non può intervenire e adesso è il numero 6 Visentin che lancia in avanti una pallina che viene deviata a recuperarla è Cenci nell'angolo della pista la perde però sul raddoppio di marcatura efficace da parte di Gariboldi da questi a Negri ancora che ragiona nella manovra centrale del Monza Monza sempre padrone adesso del possesso della pallina come da copione con il roller Bassano che prova più con azioni rapide di contropiede mentre il Monza si affida più a una manovra ragionata a centrocampo con tentativi poi di incursioni sulle fasce laterali o palline messe in mezzo dalla distanza cambio nel roller Bassano entra il numero 2 Fiorese esce il numero 6 Visentin pallina terminata fuori dal recinto di gioco si riprenderà con un ingaggio a 2 ma tutto questo avverrà dopo il time out chiamato dal roller Bassano siamo a metà del secondo tempo di questa prima partita del Girone A finali nazionali under 17 qui al Palabarzacchi di Viareggio punteggio che vede ancora il Monza prevalere sul roller Bassano per 1 a 0 per effetto del gol arrivato al 14.09 dalla fine della partita da parte di Olivieri ricordiamo anche i falli di squadra in questo momento 7 a carico del HRC Monza mentre soltanto 2 fischiati dal signor Trevisan di Viareggio contro il roller Bassano finisce il time out chiamato dal roller Bassano riprendiamo il gioco con un ingaggio a 2 nella zona sinistra davanti alla panchina circa dell'HRC Monza la pallina che viene controllata da Reniero subito raddoppiato da Olivieri e Borgonò e Gariboldi Gariboldi riesce a recuperare palla ricomincia per Olivieri che rischia di perdere anzi perde la pallina a centropista e poi commette un fallo che l'arbitro Trevisan ritiene essere un fallo di squadra a carico appunto dell'HRC Monza diventa quindi il fallo numero 8 rischia quindi adesso a breve di incorrere nella penalità nel tiro diretto il Monza sulla pallina i giocatori del roller Bassano con Biasini che prova a mettere nel mezzo fa buona guardia il portiere Borgonovo del Monza Monza adesso che ha qualche problema di disimpegno nell'uscire dalla propria metà campo prova adesso Negri ma trascorrono i 10 secondi e la pallina quindi ritorna in possesso delle stecche del roller Bassano che pare aver alzato un po' la sua pressione adesso difensiva nel tentativo di riequilibrare la partita che ricordiamo vede ancora il Monza in vantaggio per 1-0 sul roller Bassano di nuovo Biasini nella zona centrale della pista serve Reniero Reniero cerca un varco ben controllato comunque dalla difesa monzese Fiorese prova ad andarsene dietro porta cede a Cenci Cenci che mette in mezzo una pallina che rimane lì e riesce Borgonovo in qualche modo a trattenere per un ingaggio a 2 ingaggio a 2 vinto dall'HRC Monza prova ad andarsene Olivieri sulla fascia lo ferma bene Cenci che prova a proporre un'azione offensiva ma è di nuovo il Monza adesso fasi concitate di partita cade Biasini nella zona di centropista per Trevi Zan non c'è nulla adesso Cenci ha una grande occasione per un tiro di prima sul secondo palo liberissimo ma mette incredibilmente a lato adesso dall'altra parte è il Monza che va alla conclusione con Negri di poco a lato pallina che si impenna e ritorna nelle stecche del roller Bassano è Reniero ancora a provare a proporre una manovra serve Biasin che cerca un varco ancora Reniero conclude dalla distanza la palla che rimane lì c'è Fiorese che ha un'altra grande occasione ma conclude incredibilmente a lato a porta quasi sguarnita riparte velocemente il Monza con una bella conclusione adesso di Gariboldi fermata bene in tuffo da Vallortigara dall'altra parte il roller Bassano prova una manovra con un tiro dalla distanza la palla rimane lì bella parata del portiere Lombardo adesso di nuovo il Monza che può spingere una potenziale occasione di due contro uno pallina messa nel mezzo bella chiusura di Cenci dall'altra parte Biasini prova ad andare in contropiede si allarga invece di servire Fiorese va alla conclusione bella parata di Borgonovo poi un batti e ribattinare ancora pallina sulle stecche monzesi con la conclusione di Negri che viene deviata c'è un fallo adesso commesso dal numero 5 Biasini in favore quindi del Monza quando mancano 7 minuti e 50 alla fine della partita ancora punteggio fermo sull'1-0 per l'HRC Monza c'è un cambio adesso per il Monza esce il numero 7 di Rita rientra il numero 5 Vergani l'arbitro Trevisan fa riprendere il gioco pallina sulle stecche di Gariboldi adesso Negri ancora Monza che prova a rallentare i ritmi di gioco a gestire il possesso della palla lo fa con Negri nella zona centrale di centropista prova a servire una palla recuperata da Biasini Biasini prova ad andarsene cade a terra per l'arbitro Trevisan non c'è niente è Fiorese a recuperare la pallina serve Reniero che conclude dalla distanza una deviazione però mette la pallina a lato ancora Fiorese prova a ricominciare da centropista il roller Bassano con Reniero Reniero conclude dalla distanza ma fa buona guardia la difesa del Monza Negri adesso ha il problema di girarsi nel proprio angolo per portare la pallina oltre il centrocampo lo fa in maniera ottimale Gariboldi serve Vergani che però manca l'appuntamento con un'occasione molto importante è di nuovo il roller Bassano a spingere la transizione sempre Reniero entra in aria c'è il contatto e per l'arbitro Trevisan è un contatto falloso e quindi rigore rigore adesso per il roller Bassano tutto questo però avremo dopo il secondo time out chiamato dal Monza quindi partita adesso nella fase concitatissima diciamo del secondo tempo diversi diverse occasioni potenziali alcune clamorose ben parate dai portieri e l'equilibrio comunque che regna sovrano ripetiamo il punteggio 1 a 0 per il Monza quando mancano 6 minuti e 49 alla fine della prima partita di queste finali nazionali giovanili categorie under 17 dal Palabarzacchi di Viareggio girone A appunto abbiamo in pista HRC Monza e roller Bassano 8 i falli di squadra a favore a carico scusate del roller dell'HRC Monza mentre sono solo 3 quelli commessi dal roller Bassano quasi tutto pronto per riprendere il gioco con una situazione decisamente non banale perché Reniero ha appena preso la pallina e la sta portando sul dischetto dell'area di rigore per andare a sfidare il portiere Borgonovo giocatori che raggiungono la postazione dell'area di rigore opposta Reniero si prepara alla conclusione parte il tiro colpisce il palo e la pallina poi termina lontana dalla sua stecca per di nuovo una manovra adesso del roller Bassano che si sviluppa a centro campo quindi grandissima occasione sprecata dal roller Bassano con la conclusione dai 5 metri 40 dai 5 metri di rigore del roller Bassano che quindi il punteggio rimane ancora fermo sull'1-0 roller Bassano che però continua a spingere sull'acceleratore c'è una bella conclusione parata bene da Borgonovo sempre del solito Reniero cade a terra Fiorese in cerca di un nonno fallo l'arbitro Trevisan però ritiene regolare l'azione di contrasto dei giocatori monzesi è di nuovo il Monza che prova ad uscire dalla sua metà pista lo fa in questo momento Pallina in possesso di Olivieri che viene raddoppiato riesce ad andarsene sulla propria sinistra e cerca di entrare in aria riesce Reniero a ripartire adesso con il servizio per Biasini Biasini si allarga prova a mettere in mezzo ma chiude la difesa monzese di nuovo Gariboldi adesso per i giocatori lombardi ad avanzare nella propria metà campo ha il problema di superare nei dieci secondi la metà pista infatti il Monza butta la pallina in avanti senza che nessun compagno però riesca a recuperarla Biasini adesso cerca di proporre una pallina sulla sinistra a Reniero Reniero con una trottola mette in mezzo mette in mezzo una pallina che viene fermata senza problemi da Borgonovo ultimi cinque minuti di partita ancora uno a zero per il Monza ma il roller Bassano adesso sta spingendo in maniera decisa c'è un servizio al centro ma la pallina non arriva sulla stecca di Fiorese riparte Negri ma Reniero lo ferma dall'altra parte ancora un'occasione molto importante clamoroso errore sotto porta del numero cinque Vergani che ha ricevuto un assist al bacio di Olivieri ma solo davanti a Vallortigara ha concluso incredibilmente alto pericolo incredibile per la difesa Veneta che adesso però riesce a ripartire col numero novecenci che serve in mezzo Fiorese cerca di concludere ma cade a terra senza che ci sia un fallo e poi è lui stesso a toccare la pallina da terra adesso il Monza però perde la palla ancora nella sua zona dell'area di rigore un'altra conclusione di Fiorese al lato forzing finale nel tentativo di riequilibrare la partita del roller Bassano un'altra conclusione di Biasini Fiorese recupera di nuovo Biasini a centropista subisce il nonno fallo da parte del numero cinque Vergani nonno fallo quindi a carico dell'HRC in Monza ad uno soltanto dal decimo che vorrebbe dire appunto tiro diretto per i Veneti Biasini mette in mezzo una pallina facile preda di Borgonovo sul primo palo Cenci a centropista una conclusione da lontano di nuovo Fiorese lotta in mezzo all'area di rigore ma di nuovo tocca la pallina da terra nel tentativo di ribattere a rete e quindi l'arbitro Trevisan ravvisa gli estremi per una punizione a favore del Monza è il numero nove Olivieri che serve in avanti ma nessun compagno pronto a ricevere il suo assist è di nuovo Reniero ma perde subito la palla prova adesso Gariboldi a ragionare un attimo il servizio però è lungo per Negri squadra è adesso un pochino stanche negli ultimi quattro minuti di partita c'è Biasini ha un buon varco conclude però in maniera debole e centrale sulla sua destra e Borgonovo riesce a chiudere senza troppi problemi Negri prova a partire sulla sua sinistra perde palla Cenci a contrasto con Olivieri raddoppiato e l'arbitro Trevisan ferma il gioco per decretare un ingaggio 3 minuti e 35 secondi alla fine della partita ancora 1 a 0 per il Monza si riparte con un ingaggio è Olivieri che vince il contrasto cerca di servire Vergani che riesce a recuperare la palla in un angolo subisce una spinta da parte di Fiorese e poi è lui stesso a commettere fallo il numero 10 per il Monza sì sì non andiamo errati quindi fallo di squadra commesso dal numero 5 Vergani e quindi andremo di nuovo sul dischetto stavolta quello lungo da parte a favore del roller Bassano per un'occasione ancora per equilibrare questa partita che vede ancora l'HRC Monza in vantaggio per 1 a 0 è Cenci che va a incaricarsi della battuta a sfidare l'ottimo fino adesso Borgonovo autore di importanti interventi per la sua squadra c'è un cambio anche nelle file monzesi entra il numero 9 Ciannamea che fa il suo esordio in partita è uscito Vergani molto stanco ripetiamo molto caldo intanto Cenci parte finta il tiro prova a sfidare Borgonovo mette la pallina a lato la conclusione di rovescio conclusa appunto ampiamente a lato da lontano di nuovo il roller Bassano prova a insistere in questi ultimi tre minuti di assedio finale c'è Biasini che prova una conclusione e trova il pareggio trova il pareggio con un tiro dalla distanza il roller Bassano sul quale Borgonovo forse coperto non è riuscito a intervenire quindi quando mancano solo tre minuti alla fine il roller Bassano perviene a un pareggio meritato dato da questa grande pressione effettuata negli ultimi minuti ricordiamo anche un rigore un tiro diretto sbagliato ma a tre minuti dalla fine torna in parità l'incontro quindi uno a uno fra HRC Monza e roller Bassano Monza adesso che si butta in avanti nel tentativo di riconquistare il vantaggio lo fa con Gariboldi che però perde pallina è Reniero che adesso cerca un attimo di ragionare una volta pervenuto al pareggio il roller Bassano prova un attimo una manovra leggermente ragionata con Biasini che serve Reniero zona centrale della pista va alla conclusione impatta su un difensore monzese ed è di nuovo la pallina in possesso del roller Bassano che negli ultimi due minuti e mezzo prova a portarsi addirittura in vantaggio l'arbitro però Trevisan deve interrompere il gioco perché la conclusione precedente non ha colpito un difensore un difensore monzese bensì ha colpito Fiorese in un fianco che è costretto al cambio rientra il numero 4 Zambon due minuti e venti alla fine questa prima partita molto equilibrata molto divertente fra HRC Monza e roller Bassano ancora il roller Bassano che prova a costruire un'azione pericolosa con il numero 5 Biasini sempre fascia centrale Zambon cerca un uomo al centro lo fa con una conclusione che però termina larga riparte dall'altra parte Vergani che non trova nessun compagno e allontana soltanto la pallina nella metà campo bassanese Reniero per uno degli ultimi assalti di questa partita attenzione c'è una pallina recuperata da Olivieri che va alla conclusione e centra una clamorosa traversa a Vallortigara battuto su un'azione personale che dettata da una pallina persa in maniera sanguinosa dal roller Bassano ancora un contrasto a centro pista è di nuovo Vergani che prova Cenci recupera la pallina prova a puntare il numero 9 Olivieri lo fa con un'alza e schiaccia fermato dal difensore monzese che a sua volta riparte conclude debolmente a lato un minuto e ventotto alla fine Cenci sulla fascia sinistra perde la pallina recuperata da Gariboldi adesso il numero 6 Negri prova a ripartire per una delle ultime azioni monzese trova benissimo Gariboldi che si presenta davanti a Vallortigara che chiude in maniera ottimale contropiede per il roller Bassano Cenci cerca di saltare Olivieri che lo ferma a giudizio di Trevisan con un fallo di pattino e quindi quando manca un solo minuto alla fine della partita avremo un tiro di rigore per il roller Bassano occasione clamorosa adesso appunto sulle stecche venete per un tiro di rigore il numero 5 Biasini a sfidare Borgonovo parte il tiro messo clamorosamente a alto Biasini chiede la deviazione del portiere che a mio avviso non c'è stata conclusione decisamente alta lo stesso giudizio di Trevisan che quindi fa ripartire il gioco con una punizione dall'angolo basso per il Monza scampa all'ennesimo pericolo la formazione lombarda e prova a gestire uno degli ultimi possessi della partita con il numero 9 Olivieri serve a centrocampo Negri Negri prova a guardare in mezzo all'area di rigore ma è ben chiuso allora si affida di nuovo a Olivieri viene raddoppiato nella zona centrale del centrocampo riesce ad andare via cerca di mantenere il possesso della palla 40 secondi alla fine della partita il roller Bassano riparte con Zambon Zambon sulla parte sinistra sulla parte destra della della pista serve Reniero a centrocampo prova ad accentrarsi cerca di saltare Olivieri ce la fa entra in area di rigore prova a concludere ma cicca clamorosamente la pallina e la colpisce di piede quindi quando mancano 20 secondi alla fine il Monza riparte con un'occasione importante per Negri Negri entra in area e grandissima parata di Vallortigara con la mano sinistra che riesce a impedire un gol che sarebbe stato decisivo 7 secondi alla fine è Biasini che entra in centrocampo conclude clamorosamente a lato un'occasione importante e su questo tiro finisce la prima partita di queste finali nazionali giovanili under 17 girone A termina 1 a 1 fra Roller Bassano e HRC Monza una partita molto divertente molto combattuta con grandissime occasioni da una parte dall'altra due ottimi portieri che hanno difeso in più di un'occasione delle conclusioni molto pericolose un pareggio a mio modo di vedere giusto Monza che ha provato a gestire di più il possesso della pallina durante i 40 minuti il Roller Bassano ha provato con azioni più veloci ma il punteggio ha visto alla fine la prevalenza di pareggio si salutano le due squadre a centropista con questo risultato appunto ribadiamo Team Service Car Monza e Roller Bassano 1 a 1 vi diamo appuntamento fra circa una ventina di minuti per la seconda partita di questa prima giornata fra i padroni di casa dell'ASD Via Reggio Hockey e la rotellistica scandianese di Massimo Barbieri da Leonardo Barozzi per questo momento è tutto a risentirci più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti